A casa tua c'è un folletto? Allora c'è anche BR Store! Ordina adesso, il domani è tutto a casa tua! Perché non scegliere di risparmiare? BR Store, siamo i migliori! Bene, attenzione di BR Store, innamorate del folletto! Oggi vediamo come sostituire i sacchetti, il filtro e il profumo ad un folletto VK200 o 220S. Allora, per la prima cosa prendiamo il nostro kit. Per arrivare a casa i nostri sacchetti, il nostro filtro e i nostri profumi. La confezione dei sacchetti sono da sei pezzi, stessa cosa anche per i profumi. E in più per arrivare a casa anche un filtro da sostituire una volta ogni sei mesi. Allora, noi ci siamo già dotati con un sacchetto pronto da montare. Nel frattempo prepariamo il tutto, filtro e il profumo. Ora, per sostituire il sacchetto, aprite l'unità filtro, facendo questo tipo di gioco. Togliete il vecchio sacchetto. Prendiamo l'uovo. Allora, il sacchetto per montarlo ha un passo obbligato, quindi dovete eseguire questa forma anche sul folletto. Quindi prendete sulla parte in plastica, lo alloggiate, accomodate il sacchetto all'interno della macchina, in questa maniera, richiudete l'unità filtro. Controllate che non ci siano errori, attenzione. In questo caso è rimasta una piccola linguetta di sacchetto all'esterno, quindi accomodatela per bene e chiudete. Fatto questo avete sostituito il sacchetto. Ora, per il filtro, stessa cosa, riaprite, ovviamente potete fare tutto in un unico in un unico giro. Prendete la levetta, piegatela appena e tiratela verso il basso. Ok. Prendiamo il nuovo filtro e lo rinseriamo. Quindi alloggiate prima la parte posteriore e poi fate scattare quella frontale. Vi ricordo che va cambiato una volta ogni sei mesi ed è importantissimo. Quindi richiudete il tutto. Il profumo. Allora, scartate un profumo. Il profumo su questo folletto va sulla parte superiore. Quindi c'è l'apposito cassettino. Quindi togliete il vecchio e mettete il nuovo. Avete così sostituito profumo, filtro e sacchetti con una versione compatibile su un folletto WK200. Vi ricordo che gli stessi sacchetti possono essere utilizzati anche su un 220S perché sono in pratica lo stesso identico folletto. e lo trovate sul nostro store www.vrstore.com con il codice KIT0206 KIT0206 E lo stralo per l'arco di PESATII UTI.